Oggi inauguriamo il più grande parcheggio pubblico in Italia, attrezzato per infrastrutture di ricarica, per servire auto ibride e elettriche. Abbiamo 74 stalli con 37 punti di ricarica e avremo a disposizione un'infrastruttura che consentirà di ricaricare in circa 4 ore un'auto full electric e in circa 2 ore un'auto ibrida. E' un ulteriore passo di aeroporti verso la transizione green, l'anno prossimo come ADR Mobility inaugureremo un ulteriore parcheggio delle stesse dimensioni, abbiamo un obiettivo al 2031 di installare più di 5.000 punti di ricarica. Questi punti di ricarica agli operatori aeroportuali, ai taxi, agli NCC e a tutta la comunità aeroportuale comprensivo dei noleggiatori, dei rentacar. Oggi lanciamo anche il nuovo logo ADR Remove che è un logo dove inseriremo altre attività di mobilità elettrica, prima fra tutte la sostituzione della flotta delle navette aeroportuali che diventeranno tutte elettriche a partire da fine febbraio 2024. Questo luogo è diventato importante anche per noi perché è un esempio di come in qualche modo i parcheggi e non solo lo spazio pubblico risponda alle esigenze di ricarica. E l'altro tema che mi piace sottolineare è quello dell'intermodalità, cioè il fatto che qua si scambiano mezzi di trasporto e modi di muoversi. Grazie. 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 Grazie.